prima 55 dai io ho fatto la foto io sto a fare il video dopo non è rotta, 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 perché erano rotta, non è fruttato guarda quante foto c'è, 2.700 255, perché erano in girato, non lo scavi per te ce n'hai, per te ce n'hai, per te ce n'hai e non è così, se no così si vede 55 di qua io sono 1684 ma questo ce l'avamo 10.000 e 2.100 dopo, un fresca 11.622 foto dai che poi li mettiamo insieme e facciamo un trio poi rischiamo ma come fai la memoria? questa voglio in memoria ancora ma di quanto è? 2.50? vai, vai, vai seduta sono 100 da fuori 1, 2, 3, auguri grazie ho fatto un po' di uno, vai vai no, è si è una catturazione non si fai un vantaggio mamma mia che è? quanta vero? vai allora vabbè non è andato a votare ora è andato a votare quando hai la chiavo che tu hai pensato a quale è la guida del giammellone eh, metti la tua no? metti la vicino è vero, dopo ne ha fatto tutte e tre tanto ancora non è aperto no, vabbè dopo se sta a botta le va a far mettere bene perché non le ha messe bene le ha messe bene è lì così, perfetto è tanto rompe delle palle ma mia davvero c'è uno dei concari marini che mi hai ricoverato della tua lettura vantanara e baffunghi a borbona e ovaldo na cosa del genere e il cognome come fa? Vuolo vuolo dai 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 ehi labi mettiamo tutto in mischiato come capita capita i numeri aspetta possiamo far così guarda questa metti la più vicino questa la metti un 5 e qua e qua 20 metti 255 6 e mezza girano gira no no girato prima perché si è andata alle 6 e messa per tornare ma se questo lo metti un po più vicino va bene così da questo metti così ma non lo spegne io vai la fine c'è il caffè e non alla fine se deve sedere dai altri succhiate tutti e tre guarda che tu dovevi portare se è tanto bene è uguale è una seconda e maniamo lo soffio soffio ma se che soffio arrivamola è un bacca